Taranto, non c'è già arrivato, ma non riesce anche per un minuto, perché voglio raccontarvi in 60 secondi la storia dei sogni che poi diventano realtà, la storia di un sogno di quella parte di Taranto che con me stava sul ponte girevole negli anni 80 a bloccare le navi che partivano per il Libano, di quella parte di Taranto che negli anni 90 non ha supportato quel sindaco che si è fatto 5 anni di galera per mafia, di quella parte di Taranto che non ha supportato quel sindaco che si è rubato i nostri soldi per 10 anni, di quella parte di Taranto che adesso è attiva e che da minoranza, grazie al comitato, grazie a Mazza che piazza, alle officine, grazie a Michele che si è inventato questa cosa, è diventata maggioranza, Taranto i sogni cambiano le cose, siete pronti sì o no per la regina? E allora iniziamo ad accoglierla battendo le mani assieme iniziamo ad accoglierla battendo le mani assieme, grazie a tutti, 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 la costituzione italiana ci crede che la prima punizione che ci dice lo Stato da anni sia proprio la Costituzione sulla quale si fonda questo cazzo di Stato perché ci dicono che è uno Stato fondato sulla democrazia e sul lavoro chi ci crede di voi, Taranto, dammi ancora il clap clap, 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 clap come è? ma c'è l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro e c'è il lavoro in Anastè ma c'è l'Italia è una repubblica democratica, c'è la democrazia in Anastè ma c'è l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro e c'è il lavoro in Anastè ma c'è l'Italia è una repubblica democratica, c'è la democrazia in Anastè e la democrazia in Anastè beautiful italianità morocat se tinga linga linga vita bella avass la democrazia in Anastè la democrazia in Anastè la democrazia in Anastè come è? come anche voi? è scattato l'allarme è scattato l'allarme è scattato l'allarme è scattato l'allarme, emergenza sendo stessi è scattato l'allarme è scattato l'allarme è scattato l'allarme liquirante al centro nord sud lo centro steeds c'è vill 노래 a ciotto con la mano Motina prese fare a Docq 일 torno ad un daar C'è un paese la barba che mi è già mangiata ma non ha dato una giri e salita la mia stessa la fila la mia la mia è scattato la è scattato la è scattato la è scattato le mani in aria dove sono? eh? mamma maria ci sono Ale Vanille Miss Michela Taranto lo sapete che io senza le mie amiche non mi muovo e soprattutto appunto da sola io proprio non c'è che me ne fa da sola da sola mi prende male muovermi da sola perché le cose si fanno insieme ed è questa cosa che questa città deve ancora capire bene che per cambiare ci dobbiamo accocchiare ci dobbiamo mettere insieme uno a fianco all'altro alleluia e non in modo falso veramente dobbiamo collaborare ci dobbiamo volere bene ci dobbiamo capire perché se non la salviamo noi questa città non la salva nessuno io parlo a nome dei giovani io non sono nata a Taranto ma è come se lo fossi perché Taranto la sento la mia città ma i giovani di Taranto Taranto deve tutto ai giovani di Taranto perché se avete una manifestazione del genere qui nella vostra città non è certo per le istituzioni come diceva Fido Guido prima si grattano la panza non fanno niente le istituzioni in questa città sono i giovani che si trovano da soli i mezzi, i luoghi e tutto tutti con le mani e te cappi di sembrato some la panza come si sembra far parla o di le mani 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 La stessa parte, ma tu c'hai l'espeghiette, tutta la stessa parte, sempre senza salvaggente. Il gatto, balla, giacchetto per capire, la chiusa e sorvegliato dei banditi in cravata. Non pagano la tasse, capitale, si incazzano, parlo del politico, un nuovo nemico avanza. Una banca, un esercito, un certo del potere, è nato in febrici e sta a vedere. Tutto pianificato dai massoni in sede, un ciperefetti l'obiettivo finale per noi prede. Prendo del nuovo ordine, mottia, è la mancola. Questa crisi sembra tossi, una vola a fare, si seva. Pollo vanno, taranto, fanno, voglia stanno al male, se ne vedi, a voi del santo. Muovi l'aria! Laureata, benza della strada! Sono gatti all'ostre, gira tutto su di galmonet, gira tutto tu, di galmonet. Tutto il giorno solo colpice Otto giorno guardi la TV Non usi più le labbra, usi i tasti Ancomune che più cala se te Figa e monè Vedi ovunque, figa e monè Ma è bella che nel centro è figa e monè La mente dei bancari è tutta figa e monè La mente dei politici è figa e monè Gira tutto su, figa e monè Loro hanno il potere, hanno i monè La guerra ma il terrore come una bombione Gira tutto su, figa e monè Gira tutto su, figa e monè Le scie chimiche su nel centro Pumpe atomiche, armi segrete Futuro di diossina per me, per te Ci fanno credere che sei bene E qui? Oh, tana, figa e monè Pari zero senza figa e monè Guarda cosa ha fatto la new economy Ani, figli e damerini, shit Nessun ali per la sera, per figa e monè All turn around, figa e monè All turn around, figa e monè Non vado in giusto senza figa e monè Questa crisi sembra così cari E se ne va a farlo e non so Quando mi restano le piccole Come è stato un po' le mani? Ehi! 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 che si inventano i mestieri questo per esempio può essere disegnato da una ragazza volentorosa che si chiama Maria e ha fatto una linea di abbigliamento che si chiama Oi Marie perché a lei ancora crede di poter cucire, di poter fare gli abiti crede nell'artigianato, crede in cose che ormai ci hanno tolto perché ci hanno detto soltanto quei dell'industria e beffati io perché c'è un sacco di persone a lavorare dentro cioè poi se non basta lo possiamo fare pure più grave che andate tutti a lavorare però il problema è che come diceva anche Fiorino Manoia prima come è un diritto il lavoro è un diritto la salute assolutamente ci dovrebbero e ci devono tutelare la salute se c'è un po' facciamo male a Sankapur con la parte noeste la prossima va a tutti i nostri fratelli africani che ci fanno la cortesia di venire a vivere insieme a noi assolutamente perché i confini sono soltanto robe che servono ai politici noi siamo di tutto il mondo e dobbiamo poter vivere dove cazzo vogliamo noi oh no 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 quando ognuno ne mette un po, 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 il contatto è magico, po, 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 po. Eh, io vorrei la pelle! Voglio il suono vero di Trinità, io vorrei la pelle nera, voglio il caldo sole del Senegal, ahhh, in questo amburo vive Africa, poi si gionerà, in ogni battito c'è libertà, si gionerà, entra nel sangue accende l'anima, si gionerà, le attitudine, in questo amburo vive Africa, si gionerà, in ogni battito c'è libertà, si gionerà, entra nel sangue accende l'anima, si gionerà, le attitudine, se dentro è l'anima dell'Africa, batti le mani per l'anima dell'Africa, mettete le mani assieme tutte centomila volte assieme, tutti, tutti, se dentro è l'anima dell'Africa. Allora adesso noi diciamo Africa e poi dite brigionala, ok? brigionala ogni giorno, Africa, non ti sento, com'è? Africa, lolo 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 lolo, com'è? Africa, chiamo Amadele, Africa, spregionala ogni giorno, questo è per tutte le donne, è per tutti i compagni e le compagni, è per Claudio che vive in mezzo a noi ancora e sempre, si Claudio! e per tutte le donne, non so quant'è che sono posta, è venuta in ba, si smacca il culo, cura, a gama, fino, cura! Eccoci qui, siamo nuovamente nel backstage con Dio Dato, altro Tarantino Doc! Ciao, ciao! Mamma Maria si spacca proprio, eh? Eh si, si, spacca assolutamente, tra un balletto e un altro, intanto sei un Tarantino Doc però ti abbiamo un pochino prestato, perché quest'anno sei stato al Festival di Sanremo, insomma, vivi anche fuori, ormai la tua musica è ovunque in tutta Italia, e mi faceva molto pensare il fatto che l'anno scorso tu eri, insomma, hai anche un soffrito di questo concerto per farti anche un po' conoscere, no? E invece ti ha portato a fortuna quest'anno, la tua popolarità la metti al servizio del concerto stesso. Io ci tenevo a tornare perché per me era come chiudere un cerchio, no? Lo scorso anno, ma non solo lo scorso anno, questa gente mi ha regalato tanto, anche al Festival di Sanremo mi hanno sostenuto in maniera inaspettata anche, e quest'unità che ha dimostrato la città di Taranto nel sostenermi in quella manifestazione così importante, l'ho ritrovata oggi su questo palco e ci tenevo a mettere a disposizione, come dire, la mia visibilità mediatica per argomenti e tutto ciò che c'è dietro questa manifestazione, che sono cose fondamentali per, qua non parliamo di spettacolo, qua parliamo di vita degli esseri umani, parliamo di una cosa di cui una società civile dovrebbe vergognarsi, no? La situazione tarantina è assurda e non è l'unica in Italia, però Taranto oggi è risposta. Assolutamente! È l'inizio, ma non solo quest'anno, già dallo scorso anno, di una rivoluzione proprio sociale che parte dal basso e che può arrivare, che sta contagiando il resto d'Italia, sono felice di farne parte in piccola parte. Allora, sono le 23,59 e qui siamo arrivati a 120.000 persone, è un risultato migliore di questo? Forse neanche spera, cioè non si poteva neanche sperare. Io avevo partecipato lo scorso anno ed è stato un evento storico e quest'anno lo è ancora di più, quindi significa che c'è una presa di coscienza proprio da parte della gente, ma non parlo solo di Taranto, parlo proprio degli italiani, tanti hanno voluto partecipare, mi hanno fermato prima, ho voluto fare un giro in mezzo al pubblico, mi hanno fermato persone di Siracusa, siamo venuti da Siracusa, mi hanno detto, e questa è una cosa incredibile, Taranto è diventato un polo culturale, un centro rivoluzionario del sud Italia e non mi va neanche di fare paragoni con altre manifestazioni del primo maggio che meritano di esistere e meritano lo spazio necessario come lo merita appunto questa manifestazione qui. Però vogliamo ancora ringraziare il comitato di cittadini e lavoratori liberi e pensanti, perché forse non tutti lo sanno, io l'ho ripetuto più volte, ma mi va di ripeterlo ancora, perché qui nessun artista è venuto con un cachet, tutti a titolo assolutamente gratuito, ci sono delle magliette che si possono acquistare perché è una manifestazione autofinanziata, la facciamo anche vedere, sì, ai diritti, no, ai ricati, quindi insomma un applauso a loro e a tutti voi che lo merita. Allora, a parte gli artisti, sono felice che tanti anche amici siano arrivati qui oggi, gli after hours chiuderanno il concerto, quindi restate sintonizzati perché sarà un finale incredibile. La cosa bella è appunto questa, che è un comitato nato poco più di due anni fa, forse anche meno, ora non mi fa dire una festina, però autocostituitosi senza appoggi finanziari importanti, senza non quello di questa gente che vedi qui e quello dei commercianti della città di Taranto, e senza appoggi politici si è riuscito a creare questa cosa meravigliosa, quindi è l'esempio di come dal basso si possono creare eventi incredibili, da come dal basso debba poi partire una rivoluzione sociale e culturale in questo paese, che è un paese bellissimo, la cui bellezza viene spesso umiliata da scelte scellerate dei nostri rappresentanti, chiamiamoli così, e questo è appunto l'esempio di come dal basso possa arrivare una risposta, noi sappiamo qual è il futuro che vogliamo e ora ce lo andiamo a prendere. Grazie mille, grazie ad Antonio Diodato con noi. Diciamo che i miei amici che non mi piace, sembro Ciriaco De Mita, sono miei compagni, ok? Assolutamente. All right, vi lasciamo su sta cosa, Taranto, non è soltanto una roba in cui si è capito che non siamo molto pop e cantautoriali. No, diciamo, ho detto più parolacce io. Siete abbastanza pazzi per noi, volete fare una festa di due minuti, contate! Sì, voglio davvero vedere centomila persone pazze! Siete pronti? Per fare un carnival, siete pronti? Sventolate qualsiasi cosa, Maria sventola! Io, e non c'ho niente! Maria sventola qualsiasi cosa, Maria sventola qualcosa! Non c'ho niente! Maria! Sventola qualcosa! Maria! Maria! Sventolate! Muovi l'aria! Poi! Sventola! Taranto libero! Sulta! Libero! Sventola! Non siamo cautautoriali per un cazzo! Spettola! State spettolando qualcosa! Passiamo di play! Guardate di somma! Guardate di somma! Passiamo di play! Prendiate un attimo di respiro! E ottengete con noi! Avete 20 secondi per rimpazzire! Siete pazzi come noi! Andiamo Taranto! Andiamo Comitato! Andiamo Mezza che piazza! Andiamo! Così, datemi le mani! Le mani! 100.000 persone! 200.000 mani! Speciale! Passati play! La musica è l'unico mezzo che abbiamo per unirci! Grazie Taranto! Ilva is a killer! Music is a star! La musica è quella che ancora adesso ci unisce! Nonostante tutti i problemi che questa città ha! Ancora grazie Taranto! Ancora grazie Taranto! Volevo dirvi che anche noi viviamo a Taranto! Che anche noi facciamo la nostra musica da Taranto e la portiamo in giro per il mondo! Non è che non si può! Non si può unire il messaggio! Non si può unire il messaggio! Non si può unire il messaggio! Senza ballare! Allora, questo è lo stile della mia generazione! Di quelli che hanno portato uno stile diverso in Italia! Perché prima era un po' diciamo due strazza maroni! Poi sono arrivate le persone che hanno portato la musica black! Tra cui quelli che l'hanno unito insieme a un messaggio! Yes! Io non ho capito se qua state insieme a me o non ci state! Perché non vedo l'uomo con la barba qua! Non mi sento! Saresti fondamentale! Altrimenti diciamo chiacchiere che non servono a niente! All right! L'uomo del basso anche può starci! Ragazzi il messaggio è importante! Ci dobbiamo divertire ma non ci dobbiamo mai dimenticare! Che è importante avere coscienza di quello che si è! Di quello che si ha! Di quello che potremmo avere Taranto! Perché potremmo avere tantissimo! Molto più delle briciole che ci danno! Che ci buttano lì davanti! Che neanche riusciamo a prenderle capito? Ce le buttano pure male le briciole! Taranto è molto molto di più! Curro! 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 Guagio! Ci serve qualche minuto eh! Curro! Ci serve qualche minuto! Assolutamente! Loro sono un manifesto! Vieni, vieni! Di un'intera, pure due, tre generazioni! Dacci una mano! Dacci una mano! Fate voi un cazzo di applauso a questo uomo! Assolutamente! Che gli vogliamo bene! Ha lanciato un appello e ha fatto... E ha creato questa roba meravigliosa insieme all'aiuto di tutti i compagni che ci danno una mano! Insieme a tutto il comitato! Sì! No, io... Io purtroppo faccio... Faccio qualcosa che non mi piacerebbe fare! Quindi... A chiedere aiuto perché tutto si possa... Siamo qua! Portare a termine! No! Volevo ricordarvi che... 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 Insomma c'è ancora ottima musica! C'è ancora... Assolutamente! Io ho visto molte maschere giù! Insomma ci sarà... Ci sarà ancora da muoversi un po', quindi... Io vi vedo che siete tanti! Non penso... I gruppi che ci stanno ancora! Eh? Mi dicono di ricordare i gruppi che ci stanno! Lo sanno tutti! Non andate via! Lo sapete, no? Ci sono i tre allegri ragazzi morti! Sì!